Sei classi di sei scuole coinvolte, oltre 120 studenti partecipanti, sei laboratori di coprogettazione partecipata articolati in 34 incontri, sei itinerari cittadini di scoperta, approfondimento e osservazione, un evento finale, un solo obiettivo, stimolare il protagonismo dei giovani nell'immaginare, ideare e promuovere il futuro sostenibile di Foligno, in particolare sul tema del cibo. È il progetto Educare i giovani per la sostenibilità della città di Foligno, realizzato in partnership da Felcos Umbria e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, presentato in conferenza stampa nella sede operativa di Felcos e che muoverà i suoi primi passi a partire dall'anno scolastico in corso, per arrivare a concludersi durante l'anno scolastico 2024-2025, proponendo ai partecipanti una serie di attività laboratoriali svolte sia in classe che in esterna. In questo caso Felcos, che rappresento come presidente, ma insieme a tanti altri colleghi sindaci, in quanto è un'associazione che oggi, io sono presidente da poco più di un anno, si è ancora più sviluppata dopo i suoi 15 anni di vita, andando da 20 associati ad oltre 30, mettete insieme quasi e tanti comuni dell'Umbria, dai più grandi, Perugia, Foligno, a quelli medio o più piccoli. In particolare gli alunni del liceo scientifico Marconi, del liceo classico Federico Frezzi Beata Angela, dell'Istituto Tecnico Commerciale Scarpellini, dell'Istituto Tecnico Industriale Da Vinci, dell'Istituto Professionale Orfini e del CNOS FAP Casa del Ragazzo, si uniranno idealmente e concretamente approfondendo percorsi didattici ed educativi ideati da Felcos Umbria intorno al tema del cibo, affrontato nelle diverse dimensioni e declinazioni della sostenibilità, prosperità in ambito economico, persone e pace in ambito sociale, pianeta in ambito ambientale, partnership in ambito cooperativo e collaborativo. Il tutto realizzando un percorso di attività che interessa agli obiettivi 2, fame 0, 3, salute e benessere, 4, istruzione di qualità, 6, acqua pulita e igiene, 12, consumo e produzione responsabili, 13, agire per il clima dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ogni gruppo classe di ogni scuola associata a una singola dimensione di sostenibilità scelta insieme ai dirigenti scolastici e docenti in base alle specificità delle rispettive offerte educative, svolgerà una serie di laboratori durante i quali potranno interagire con esperti, luoghi significativi della città e studenti delle altre scuole.